in questo secondo video tutorial vediamo di spiegare come compilare le varie sezioni della domanda di assegnazione provvisoria riprendendo dal primo video tutorial dove avevamo già inserito la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di catania allora obbligatori abbiamo detto sono intanto la tipologia di posto richiesta cioè rispetto alla propria situazione di giuridica di titolarità si va a scegliere il tipo di posto si ricorda che per i docenti di sostegno vincolati nel quinquennio saranno diciamo obbligati a indicare unicamente i posti di sostegno per essendo scuola di secondo grado secondaria di secondo grado per la vista l'udito e gli psicofisici se non si ha il vincolo sul posto di sostegno e si è titolari su un posto normale ma sia anche la specializzazione sul sostegno si possono selezionare sia i posti normali indicando il punto 27 e dunque compilando questa riga e ma anche se sia la specializzazione cosa che si dovrà poi dichiarare in allegato indicare anche i posti sostegno per vista udito e psicofisici o uno delle delle tre secondo le proprie preferenze comunque sia facciamo il caso in cui si vogliano fare queste due situazioni sia posti sostegno e sia posti normali chiaramente il docente dovrà rispondere se è in possesso del titolo di specializzazione e dunque dovrà indicare sì a questa domanda e basta questo è il punto della sezione H chiaramente se decidesse di non compilare non andare sui posti sostegno basta togliere i posti sostegno e qualsiasi riferimento al fatto di essere specializzato o meno per cui si mette in questa situazione così farà la domanda solo sui posti normali chiaramente questa è la sezione H ripetiamo che c'è poi la sezione esigenza di famiglia che è anche una sezione importantissima e in questa sezione si metterà il comune di ricongiungimento che appunto abbiamo detto precedentemente che poteva essere Catania se si hanno numeri di figli di età inferiore sei anni e questo comporterebbe addirittura una precedenza e comunque si potrebbe mettere per esempio uno se si hanno o anche figli di età compresa fra i sei e i diciotto anni si potrebbe mettere se si hanno due figli uno di età compresa tra i sei e i diciotto anni mettere uno qui e se si ha un figlio di tempo inferiore sei anni mettere pure uno qui e quindi aver compilato pure questa sezione questo ci comporta che a questo punto se si vuole fare la domanda solo per la gradatoria di della titolarità della classe concorso di titolarità non si va a compilare la sezione M ma se invece si vuole compilare anche una sezione per i passaggi diciamo di catena chiamiamoli così cioè l'assegnazione provvisorie in classico concorso per cui si abilitati basta scegliere il punto 29 ulteriore classe di concorso per cui si chiede l'assegnazione provvisore oltre quella di titolarità cliccando qui si avranno tutte le classi di concorso per esempio si potrebbe scegliere una classe di concorso come fisica per chi per me per esempio come me è abilitato già in matematica e fisica e anche l'abilitazione in fisica e dunque dare priorità alla fisica piuttosto che a un'altra classe di concorso che potrebbe essere 026 matematica importante anche l'ordine da dare qui ecco questo potrebbero essere per esempio le l'altra sezione e poi chiaramente facendo salva la domanda viene per adesso salvata per essere poi per poi poter passare alla compilazione delle preferenze e degli allegati e speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori per la compilazione della domanda ne faremo anche degli altri seguiteci nei nostri canali social e nel nostro sito www.tecnailascuola.it grazie per la visione